Tanta paura questa mattina alle porte di Andria per un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale che porta a Barletta, all'altezza del ponte dell'autostrada A14. Coinvolte una Toyota di colore grigio e un fiorino bianco, scontratisi pochi metri dopo lo svincolo di missione sulla tangenziale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Andria, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Con loro anche gli agenti della polizia stradale di Barletta, impegnati per tutta la mattinata ad eseguire i rilievi del caso, mentre i conducenti delle due vetture sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. A seguito dell'incidente, il traffico ha subito di rallentamenti e lunghe code si sono registrate sia in direzione Andria che in direzione Barletta. Ben più grave invece l'incidente stradale verificatosi ieri mattina sulla strada provinciale 18 che collega Corato e Gravina in Puglia. Uno scontro frontale avvenuto intorno all'ora di pranzo tra un pulmino sul quale viaggiava la squadra femminile di calcetto della Salinis di Margherita di Savoia e una Mercedes con a bordo una coppia di medici in servizio nell'ospedale di Barletta. Le giocatrici, prima nel campionato regionale di Serie C, tornavano a casa dopo una vittoriosa trasferta ad Altamura. L'auto della coppia era diretta invece a Gravina, città di residenza della donna. Lo schianto è avvenuto subito dopo una curva su una strada considerata pericolosa e più volte teatro di incidenti stradali. Le ragazze sono state ricoverate in condizioni non gravi negli ospitali di Andria, Corato e Altamura. I due medici sono stati invece trasferiti al policlinico di Bari e anche le loro condizioni fortunatamente non sembrano destare preoccupazioni. Sempre delle atlete, le donne rimaste coinvolti in un altro incidente, questa volta mortale, avvenuto sempre ieri mattina sulla strada provinciale 18 tra Altamura e la foresta di Mercadante. L'asfalto bagnato e la pioggia battente sono state le cause di un terribile scontro che ha coinvolto due auto, costato la vita alla 44enne altamurana Angela Sardone. La donna stava accompagnando la figlia di 12 anni ed altre tre sue amiche atlete ad una gara di corsa campestre a Cassano. Dopo aver superato una serie di cunette, la sua Opel si è scontrata fondamentalmente con una Mercedes classe B diretta ad Altamura. Dopo l'impatto, le due auto sono finite fuori strada, ma sono state le occupanti della Opel a riportare le conseguenze peggiori. La 42enne è morta sul colpo, mentre la figlia e le sue amichette sono state trasportate all'ospedale di Miulli di Acquaviva delle Fonti. La loro prognosi è di pochi giorni. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una terza vettura, per fortuna senza alcuna conseguenza. Alla base dello scontro ci sarebbe stata una manovra brusca eseguita per evitare qualche tipo di ostacolo. Il resto è stato fatto dall'asfalto bagnato. Spetterà agli uomini della Polstrada di Ruvo il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.